Tanti disagi, oggi si alza la voce. Sì, diciamo che per l'ennesima volta siamo qui a sollecitare, a manifestare per sollecitare un po' la risoluzione di alcuni problemi annosi che il quartiere di Farina, di Tufolo, affronta da anni in Osiria. Nonostante la popolazione residente in quelle zone, forse oggi rappresenta quasi due terzi della popolazione complessiva di Crotone, ci sono vari problemi che nelle varie amministrazioni che sono susseguite ancora non siamo riusciti a risolvere. Io con la mia famiglia devo scendere alle 7 di mattina per andare al bar al Columbus a fargli fare la colazione per non stare un'ora nel traffico e per non dire che stiamo andando incontro nell'inverno, dove quella è l'unica strada via di Aesodo per poter scappare se vi è un alluvione. A Farina abbiamo una situazione poco credevole, è veramente molto stressante perché se vuoi arrivare in città per le 8 e mezza alle 9 devi partire alle 7, basta partire un po' più tardi che non ti ritrovi più. A tratti è stato anche un incontro abbastanza acceso dove comunque abbiamo trovato il sindaco disponibile ad ascoltare quelle che erano le istanze dei cittadini. Sui 5 punti che abbiamo sottoposto ci sono stati presi degli impegni a rispettare fin da subito intanto di contattare l'ASP per l'apertura del parcheggio di via Paolo VI, anche per capire i motivi perché non si è dato seguito a questa apertura dopo che è stato finito. Per quanto riguarda invece il discorso della polizia locale su via Nazionunite e di raccogliere i rifiuti o dopo le 8 e mezzo o prima delle 7, queste sono cose di buonsenso che servono proprio per il quieto vivere nel quartiere, un quartiere di 20.000 abitanti. Da un anno abbiamo già previsto un'arteria piccolina purtroppo che va dall'Animic, arriverà praticamente alla Fedelissima con il primo lotto e un successivo lotto poi la porterà in via San Marino e via Inghilterra. Non risolverà il problema perché riguarderà un terzo della Tufolo Farina, il terzo più vicino alla città. Ma abbiamo preso in considerazione anche la strada Tufolo Mare. Tufolo Mare sto facendo fare da un professionista una variante perché la Tufolo Mare così com'è passerebbe da via Russia e quindi è veramente una situazione pericolosissima. Così com'è la Tufolo Mare non va bene. Già adesso occorrerebbero 4 milioni per farla ma con la variante vedremo se occorrerà un altro milione per farla. Grazie.